Marco Nareini ti chiede Pronti via e hai guadagnato fin da subito una maglia da titolare Ti aspettavi di essere così importante per questa squadra in poco tempo? Sì, non so se sono importante però so che sono venuto per giocare e che avevo fiducia in questo club sapevo che potevo essere titolare non sono sorpreso perché lavoro molto e lavoro per cui ho fiducia anche nelle mie capacità